1 vai vai e ciao a tutti ragazzi prima di un nuovo video qui è Matteo Abate ragazzi oggi giocheremo a GTA 5 come si vede e lo capirete anche dal titolo ragazzi oggi vi farò vedere lo spawn di queste tre macchine tutti in un video come vedete ragazzi non è un glitch cioè guardate questo è l'Udder si vede questa è la Puntone si vede e anche questa è la Turismo R si vede allora vi farò vedere vi farò vedere prima quello là dell'azio intorno volevo dire quello dell'azio intorno e della Turismo R non ce la faccio questa seduta non ce la faccio mi raccomando che gli sta bene eh Matteo e gli sta bene ah basta che il quadro lo scrivo e che c'è ragazzi ditemi anche se volete dei walkthrough cioè oh no walkthrough di GTA 5 c'è la storia poi vi farò vedere anche il videocatteggio e altri spune e altri spuglia eh ragazzi ditemi anche se volete anche dove vi farò vedere dove sarà la Minga mi racconta questo è un problema ora ragazzi nel palazzo rosso proprio esattamente voglioci esattamente qua su youtube appena faccio la tua figura ecco qui anche della gesta e dell'amassato è veramente trovare ragazzi scusate ma quasi trova solamente la turismo r la zentorno si ma anche la gesta e adesso la turismo la gesta e l'amassato a vedere ragazzi con le date il ladder è difficilissimo da trovare e poi rispondono ragazzi non funzionano sempre perché ci sta a me alcune volte che non mi trova nessuna macchina ragazzo ma se vi fate un giro o poi cambiate personaggio e uscirà prima o poi io vi consiglio di fare un giro fate un giro ritornate e trovate una cosa si così bello e buono e poi si e cosa che spiega poi ragazzi sono già modificati cioè cioè non c'è non sono modificati all'interno per tanto le verniciature ne abbiamo cambiate ragazzi l'estetica è cambiata per farvi capire allora come vedete ragazzi l'addello si trova facilmente io l'ho trovata alla prima volta quindi ragazzi credo che il video possa finire anche qui non sa quanto stiamo in registrazione 3 ok e poi ragazzi il video può finire anche qui sono Marta ciao ciao